Prosegue il trend positivo sul fronte occupazionale. A leggere i dati pubblicati il 22 giugno dall'Inps, nel primo trimestre del 2023, i datori di lavoro privato hanno creato oltre 400.000 posti di lavoro, con un boom di trasformazione dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato, ben 215.000. A condurre le danze, le aziende con meno di 100 dipendenti, mentre si è registrato una flessione della manodopera, meno 3%, in quelli di taglia superiore. Aumentano in modo consistente il 12% i contratti di lavoro intermittente e via un incremento rispettivamente del 4 e del 3% del lavoro stagionale e dei rapporti a tempo determinato. Cronano invece i rapporti di somministrazione, meno 12%, e diminuisce l'apprendistato, meno 2%.